Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo oggi ci offre la parabola del grano e della cizzania. Un agricoltore che ha spasso del buon seme nel suo campo scopre che un nemico di notte vi ha seminato cizzania, una pianta dall'aspetto molto simile al grano, ma una pianta infestante. In questo modo Gesù parla del nostro mondo, che in effetti è come un grande campo, dove Dio semina grano e il maligno si zania, e perciò crescono insieme, bene e male, il bene e il male crescono insieme. Lo vediamo dalle cronache, nella società e anche in famiglia e anche nella Chiesa. E quando assieme al buon grano scorgiamo erbe cattive, ci viene voglia di strapparle via subito, di fare piazza pulita subito. Ma il Signore oggi ci avverte che è una tentazione fare questo. Non si può creare un mondo perfetto e non si può fare il bene distruggendo sbrigativamente ciò che non va, perché questo sortisce effetti peggiori. Si finisce, come si dice, congettare via il bambino insieme all'acqua sporca. C'è però un secondo campo dove possiamo e fare pulizia, il campo del cuore, il nostro campo del cuore, l'unico su cui possiamo intervenire direttamente. Anche lì ci sono grano e cizania. Anzi, è proprio da lì che tutte e due si spandono nel grande campo del mondo. Fratelli e sorelle, il nostro cuore, infatti, è il campo della libertà. Non è un laboratorio assettico, ma uno spazio aperto e perciò vulnerabile. Per coltivarlo come si deve, bisogna da una parte prendersi cura con costanza dei delicati germogli del bene, dall'altra individuare e sradicare le piante infestanti, nel momento giusto. Allora guardiamoci dentro e disaminiamo un po' che succede. Cosa sta crescendo in me? Cosa cresce in me? Di bene e di male? C'è un bel metodo per farlo. Quello che si chiama l'esame di coscienza, che è vedere cosa è successo oggi nella mia vita, cosa ha colpito il mio cuore e quale decisione io ho preso. E questo serve proprio a verificare, alla luce di Dio, dove ci sono le erbe cattive e dove è il seminare buono. Dopo il campo del mondo e il campo del cuore c'è un terzo campo. Lo possiamo chiamare il campo del vicino. Sono le persone che frequentiamo, frequentiamo ogni giorno e che spesso giudichiamo. Come ci è facile riconoscere la loro sisania e quanto è difficile invece saper vedere il buon grano che cresce. Come ci piace spelare gli altri. Come ci piace. Ricordiamoci però che se vogliamo coltivare il campo della vita, è importante ricercare inzitutto l'opera di Dio, imparare a vedere negli altri, nel mondo o in sé stessi, la bellezza di quanto il Signore ha seminato il grano baciato col sole con le sue spighe dorate. Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di saperlo scorgere in noi, ma anche negli altri, cominciando da chi ci sta vicino. Non è uno sguardo ingenuo, è uno sguardo credente, perché Dio, agricoltore del grande campo del mondo, ama vedere il bene e farlo crescere fino a fare della mietitura una festa. Allora anche oggi possiamo porci alcune domande. Pensando al campo del mondo, io so vincere la tentazione di fare di ogni erba un fascio, di fare piazza pulita degli altri con i miei giudizi? Poi, pensando al campo del cuore, sono onesto nel ricercare in me le piante cattive e deciso di gettarle nel fuoco della misericordia di Dio? E pensando al campo del vicino, ho la sapienza di vedere ciò che è buono e senza scoraggiarmi per il limite e le lentezze altrui? La Virgine Maria ci aiuti a coltevare con pazienza ciò che il Signore semina nel campo della vita, nel mio campo, in quello del vicino, il campo di tutti. Angelus Domini, nun siabit Maria, e concepi del Spirito Santo, Ave Maria, grazia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla, Domini, fiat mi, secundum verbum tu, Ave Maria, grazia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. E verbum caro factum est. Et abitabit in novis. Ave Maria, grazia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ora pro novis, Santa Dei Geniti, udigne ficiamur promissiomibus Christi. Grazian Tua, in questo modo Domini, mentibus nostris in fun, utiangere nunziante, Christi, Fili Tu, in carnazione conio, per passione meio ser crucem, a resurrezione gloria perducamur, per Christum, Dominum nostrum, amén. Gloriapati et, Filiot, Espiritui Santo. Sicuterat in principio, et nunc et, была бы enduringi la altressing. Et in seculea ca Déculorum. Amén. Gloriapati et,uni et,不是 forever, et in seculea ca Déculorum. Amén. Gloriapati et, Pro fidelibus defuntis, Reque meternan donais Domine, e luce perpetua luce a Dei. Reciecant in pace. Amen. Sì in nome Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in séculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi, mentre molti giovani si apprestano a partire per la giornata mondiale della gioventù, si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Per questo sono accanto a me un giovane e una nonna, il nipote e la nonna. Un applauso a ambe due. La vicinanza tra le due giornate sia l'invito a promuovere un'allianza tra le generazioni di cui c'è tanto bisogno, perché il futuro si costruisce insieme nella condivisione di esperienze e nella cura reciproca tra i giovani e gli anziani. Non dimentichiamoci di loro e facciamo un applauso a tutti i nonni e a tutte le nonne. Forte! Si stanno sperimentando qui, in molti paesi, eventi climatici estremi. Da una parte, varie regioni sono interessate da ondate anomale di caldo e colpite da devastanti incendi. Dall'altra, in non pochi luoghi vi sono nuovi fragi e inondazioni, come quelle che hanno affragellato nei giorni scorsi la Corea del Sud. Sono vicino a quanti soffrano e a coloro che stanno assistendo le vittime e gli svolati. E per favore, rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni, perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. È una sfida urgente e non si può rimandare. Che guarda tutti, proteggiamo la nostra casa comune. E adesso desidero attirare l'attenzione sul dramma che continua a consumarsi per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa. Migliaia di esse, tra indicibili sofferenze, da settimane sono intrappolate e abbandonate in aree desertiche. Rivolgo il mio appello, in particolare ai capi di Stato e di governo europei ed africani, affinché si preste urgente soccorso e assistenza a questi fratelli e sorelle. Il Mediterraneo non sia mai più teatro di morte e disumanità. Il Signore illumini le menti e il cuore di tutti, suscettando sentimenti di fraternità, solidarietà e accoglienza. e continuiamo a pregare per la pace in modo speciale per la cara Ucraina che continua a subire morte e distruzione come purtroppo è accaduto anche questa notte a Odessa. E saluto tutti voi romani e pellegrini d'Italia e di tanti paesi, in particolare quelli provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dall'Uruguay, che sono tanti. Anche le studentesse di Buenos Aires e i fedeli della diocesi di Lechnica in Polonia. Saluto anche il gruppo cicloturistico 40 anni dopo di Cogorno e i partecipanti all'iniziativa Pedalar per la Paz e i bambini accolti da alcune comunità del Lazio. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me e anche preghiamo per questa nona e questo nipote e con tutti i noni e con i nipoti. Buon pranzo e arrivederci. Grazie.